All'indomani dell'ordinanza di sospensione dell'attività scolastica di ogni ordine e grado, dall'infanzia alla secondaria di secondo grado, asili nido pubblici compresi, su tutto il territorio comunale di Chieti, il sindaco Diego Ferrara torna a precisare le motivazioni che hanno spinto il Comune a firmare la disposizione al termine della riunione convocata ieri tra Prefettura, Comune, ASL e dirigenti scolastici. Alla base della decisione non c'è alcun aggravio dell'emergenza sanitaria, ma solo la possibilità di consentire alla ASL di Lanciano-Vastochieti di smaltire i ritardi accumulati nella refertazione dei tamponi, favorendo il riallineamento del tracciamento della popolazione studentesca nei tempi ordinari. Voglio dare delle precisazioni perché leggo sui social dei commenti di persone probabilmente non informate o che non si sono volute informare. Il tavolo l'avevo chiesto io al prefetto dopo lunghe interlocuzioni con le direttrici scolastiche dei comprensivi e le presti delle scuole, perché erano alcune settimane che il Dipartimento di Prevenzione della ASL aveva esplicitamente detto di aver perso un po' la linea del tracciamento delle quarantene per l'enorme numero di tamponi da refertare. Pertanto abbiamo deciso di interrompere per un paio di giorni la ASL, riuscirà a smaltire i referti, quindi a linearsi per quanto riguarda il tracciamento e si ritorna a scuola con meno caos di quello che è avvenuto nelle settimane precedenti. Quindi la chiusura delle scuole non è stata indicata da problemi di tipo sanitario ed epidemiologico. Teniamo conto che su 1.600-1.500 positivi al giorno nelle settimane precedenti siamo arrivati a 800-850, quindi la metà. Si spera che questo sia l'inizio della discesa. Quindi sarebbe stato, come devo dire, estremamente contraddittorio chiudere le scuole adesso, quando le cose si suppone, si spera che vadano meglio. Si sono sospese le scuole per dar modo alla ASL di riprendere fiato, di smaltire i referti e quindi di ricominciare un buon tracciamento delle quarantine.